Ora si vede anche l'ombra dell'aereo che specchia sul mare, ci stiamo abbassando sempre di più, la pista praticamente si trova molto vicino alla costa, ecco che si sta passando. Ecco la costa. No, no, c'erano le mele. Guarda, 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 c'è il giolino, c'è l'hotel, c'è la boccosa delle hotel. Da un'altra parte. E' un'altra parte a l'arribe. Atenzione. Di arrivare. L'arribe. L'arribe. ok e anche questa è fatta ma di aerei, tutti della flotta turca grazie